bentornati a tutti quanti sul canale bufetti uso sempre il vostro jason ho appena letto ora sul pc una notizia veramente eccezionale ovvero che venon 2 la furia di carnage è stato anticipato attenzione non riliato ma anticipato a sony la nuova data uscita americana è il primo di ottobre ora per quanto riguarda l'italia e regionale europa non so se sarà una data quale sarà ma credo che sarà giù di lì o uscirà nel contemporaneo uscirà nella data prefissata del 14 ottobre ma non credo perché anticipando venon l'avranno anticipato alla turistica europea quindi credo che da noi arriverà intorno al 3 ottobre 4 ottobre esagerando bisogna reso sony quando lo rilassirà in italia e sono molto contento perché questa decisione è stata presa grazie all'incassi di sang si che nel primo weekend apertura ha fatto un buon incasso direi niente male veramente quindi ci siamo ragazzi finalmente un film che ha tirato molta gente in sala senza inserando bene col al botteghino non benone non splendidamente ma comunque se la sta cavando abbastanza bene e questo ha fatto attirare l'attenzione di tante major compresa sony che ha deciso di anticipare il suo venom ora spai venone home teoricamente non dovrebbe spostarsi ma neanche dovrebbe essere anticipato poi se verrà anticipato noi home inizio dicembre ancora meglio però dubito che noi home si sposta perché tanto comunque a sony interessa soltanto che che i film rimangono ancorati alla sala quindi che vengono anticipati di una settimana vengono posticipati di una a loro non frega niente importante che non si spostano di quel mese ora ghostbuster legacy è stato spostato di una settimana ma questo non vuol dire che sony magari non lo anticiperà e senza il botteghino buono è un buon segnale mi fa capire alla disney che voleva rilassarlo su disney plus con la sesso bip sicuramente un'ipotesi che posso prendere ancora in considerazione ma siccome sang si è andato molto bene secondo me alla disney ha deciso finalmente che eterna si arriverà solo in sala come per sang si perché il plus era un'opzione nel caso che sang si sta andando malissimo al botteghino non sta andando benissimo ma sta andando con un buon risultato niente male quindi fatevi sapere commento sotto con le pensate di questo anticipo livello 2 e noi ci vediamo al prossimo flash ciao a tutti